E parla? Eccoli i primi, veniamo da là sotto, non ce la faccio a parlare, ecco Rosario, Ascenzo, i giovanotti, tanto per far vedere gli amicini di Youtube con chi vado io, eccoli, eccoli in quel di forme, ridente paese marsicano, ecco i formaroli, sì, ecco qua, vi riprendo a voi, vai, affilatele, andate, vai Rosa, che noi possiamo andare anche dopo, possiamo partire. Aho, eccoli qua, tutti qua, vai, dritto, dritto, dritto giù, eccoli, quelli più tranquilli, quello è il velino, e da parte ci stanno quelli più forti, no? Ecco Luigi in prima fila, Rosario, Ascenzo, Maurizio che saluta, quell'altro non me lo ricordo, Antonio, hai visto franzè, hai visto mamà? Ecco questi altri, Fabrizio, Claudio che c'ha sempre, da ridì, Fabio, eccoli, eccoli, eccoci, ma la tengo in mano, la telecamera mi faccio un Cristo, ma mi faccio un Cristo, aho abbassata la caboccia, aspetta che faccio la ripresa, aho vediamo chi ha le corna più lunghe, chi si appunta, chi si appunta, chi si appunta, vai vai, basta, basta, vai, vai, va, dritto, dritto, segui il sentiero, vai vai, segui il sentiero, vai, aho chi si appuntato c'ha le corna un po' lunghe, vai vai vai, guarda come si appassa Rosario, a Rosario ma che c'hai paura, ti rimane appuntato? Attenzione alle corna, ecco Claudiuccio, ti piace Claudio? Sì, la Coturia, vai ragazzi, vai vai, ma Francesco sta dietro? Vai vai, 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 ti piace me fa? Si si, bellissimo, proprio la prima volta è sempre così, la prima volta ti risano di parla faccio più qui, ahahah ahahahahah, ma Francesco guardagli arriva, con noi ripiamo, l'hai visto papà? Che è il viglio? Stai tanto bravo, ahoh, questo mi sta a far amazzare, hai capito? Ecco Luigi, ah vogliamo poi i mulini? Noi vi eccoci alla Fontana di Castelnuovo ragazzi, trazione sconosciuta di Avezzano dai che bella eccoci al Ruscello, no basta veloce sale un po' di distanza prendi un po' di velocità non venite tutti quanti qua, la c'è sta pure il ponte no perchè l'ha chiappato e non ci vuole la ruota decisione, bravo, bravo, quello una volta, quello si fa pure con la bicicletta no quello si fa ma non mi voglio bagnare no hai fatto bene, quello si fa con la bicicletta, che se te sbagli te ne vai sotto però quello è molto sbagliificato vai vai, passate sul ponticello così se lo riattivate un po' attenzione se si scicola eh vai a me comincia a via, piano piano vai aspetta che poi sei un po' intorcinata, la fa mandare avanti è questo, guarda che bello questi che scendono da la la scorsa volta lo facevamo con la è uscito pure il sole lui ti è piaciuto? vai 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 vai, decisione ragazzo dai ascenso vai 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 qua faccio un montaggio con ste facce ma lo sa, che ci dici? niente, bellissimo ste percorsi e questo lo conosciamo Claudio, basta vai Angelo Angelo Fabio, Fabio, cosa è bello? ce sta un ponticello là chi altro ci sta? oh oh Antonio è passato Fabio c'è stato un ponticello fatto apposta quello è storico e quello è una roccia non lo stava muo' e ecco guarda là c'è stata la vasca ha visto che posso? eh? com'è? com'è? diccelo? mi arrepichai mi arrepichai sto contro sole contro luce vabbè avvia Corradini sta sempre una cazzo ah oh qua dovevi saltare? vai vai dovevi saltare? dovevi scende? vai dietro col sedere oh niente niente non succede niente vai vai niente niente questo è il massimo che ti può succedere ma non zampare che questo può essere l'amore non c'è ma non c'è niente niente signori questa la facevi in no non l'ho vista proprio questa la devi fare vabbè la prima volta che vieni non la conosci lo devi fare in differenza se sei fermi poi guarda lì per me Oh è una meraviglia, avete tutti i caschi che luccicano? Oh guarda da dove siamo venuti, ciao ragazzi, qua siamo in quel di Antrosano con la mano solo, vabbè di più, in sepo, ecco lì, vai Danilo, ciao, 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 Maurizio Antonio